Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, come state? Tutto a posto? Mi auguro di sì. Oggi parleremo ragazzi di rinnovi, perché c'è una cosa che mi sta gasando, una notizia che potrebbe farmi e farci molto felici. Quindi mi raccomando, seguite questo video fino alla fine perché ho tante, tante cose da dire. Stasera ci sarà anche la Champions League, quindi farò il video post partita dell'Inter. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così vi arriva la notifica appena pubblico. Ora ragazzi, di cosa dobbiamo parlare? Dei rinnovi e un chiarimento sul post partita di ieri, che da alcuni è stato secondo me mal interpretato. Prima di iniziare vi invito anche a scaricare l'App on Football, app che sponsorizza da sempre la mia attività qua su YouTube. È un'app che utilizzo quotidianamente. Adesso, come sono impegnato su SoRare, trovate anche il link in descrizione su queste cose qua. La utilizzo tanto per rimanere aggiornato anche su altri campionati, quindi mi raccomando. Scaricatele gratis, Android iOS. Allora, da dove inizi? Inizio dalla partita di ieri. Io ho fatto un post partita, che da alcuni è stato sicuramente mal interpretato. Non volevo sminuire la prestazione del PSG, perché la prestazione di squadra c'è stata. Tuttavia, credo che per il potenziale offensivo che il PSG ha, la produzione offensiva, la finalizzazione, non è stata all'altezza delle mie aspettative. Mi aspettavo tanto. Perché avere Mbappé, Messi, Di Maria, poi entra anche Neymar, non l'ultimo dei fessi, e vedere, secondo me, una squadra che concretizza così poco, mi ha stupito. Oltretutto, credo che l'iniziativa offensiva sia spesso figlia di azioni estemporanee individuali da parte di Mbappé, che è un fenomeno totale. Cioè, il migliore giocatore al mondo. In questo momento, pochi cazzi, ragazzi. C'è poco da girarci attorno. È il migliore al mondo. Punto. Messi, totalmente in ombra, l'opposto. Lo Simoro di Mbappé, nella partita di ieri. Di Maria, che ha giocato bene, ma poi è entrato anche Neymar, che ha dato quel brio in più nei minuti finali. Quindi, però, sono rimasto deluso. Mi aspettavo molto di più dal PSG. Perché comunque ha un attacco fenomenale. Eppure, al di là di qualche miracolo di Courtois, mi aspettavo molta più qualità negli ultimi metri. La qualità ce l'ha messa tutta Mbappé. Ed è grazie a lui che il PSG ha questo vantaggio provvisorio. Poi c'è il ritorno. È la porticina per il Real. Rimane aperta. E quindi, un pelo di delusione per il fatto che il PSG abbia fatto solamente un gol. Ce lo posso avere. La cosa che invece mi irrita, e non poco, sono già i parallelismi con Allegri. Allegri, il paragone con Pochettino, con Ancelotti, della serie. Se Allegri avesse vinto di Musetto Corto, con quell'attacco, con quella rosa, i Juventini lo avrebbero massacrato. Se Allegri avesse perso giocando in difesa, così come ha fatto Ancelotti, i Juventini lo avrebbero massacrato. In realtà può essere anche il contrario. Se avesse vinto il Real Madrid di Corto Muso, giocando quella partita là, avremmo probabilmente esaltato Ancelotti con una vittoria allegriana. Ragazzi, capite bene che ho detto tutte le opzioni possibili e il punto è che Allegri è oggetto di critica a prescindere. E questo è il dato di fatto. A me stancano, stufano. Io li guardo in maniera assettica, cioè separata dal contesto Juve, che me frega. Altrimenti tutto diventa un pretesto per creare polemica o aizzare polemica. Quindi questo è. Ci tenevo solamente a ribadirvi alcune cose. Ora, strategia dei rinnovi di contratto. Il 23 di febbraio, ben tre giorni dopo il compleanno del sottoscritto, io sono andato il 20 febbraio, ci sarà il CDA. Dopo il CDA è già delineata, ragazzi, la strategia dei rinnovi. Prioritario sicuramente Paolo Di Bala, che a quanto pare c'è puzza di buona riuscita, ecco, di tutta questa trattativa che... Anche il parto degli elefanti dura così tanto. Pare che duri 11 mesi il parto degli... cioè la gravidanza degli elefanti. Eh, capite bene che la gravidanza di questo contratto si è protratta per più tempo, è stata estenuante, è astufato. Ora, credo, ragazzi, che, insomma, arriviamo al momento clou di questa situazione. Quadrado dovrebbe rinnovare per un altro anno, più opzione. Quindi, vediamo un po' anche, Juan è già tutto fatto, bisogna mettere solo le firme, praticamente, c'è l'accordo già totale. De Sciuio potrebbe essere riconfermato con un ingaggio ridotto rispetto a quello che già percepisce. Bernardeschi potrebbe rimanere, ma l'offerta della Juve è a ribasso. E questa è una buona notizia perché significa che il buon Berna, noi lo stiamo categorizzando nella... Nella panchina, cioè da panchina, lo stiamo... gli stiamo dando un ruolo non più centralissimo, ma da panchina. Con uno stipendio che probabilmente è giusto dargli, due milioni, magari due milioni e mezzo, però panchinaro, e non è male, secondo me, come coprimario o panchinaro. Ci sta. Bernardeschi con Allegri è rivitalizzato, far la riserva la può fare, idem De Sciuio. Credo che sia... che si stia conquistando sul campo, veramente la riconferma, ovviamente con stipendi bassi. Poi, di Bala, mi manca qualcun altro. Perin deve decidere se rimanere alla Juve a fare il secondo o andare via e giocare. Anche qua vediamo un po'. Io la cosa che vi dico è, tanti di voi, probabilmente in maniera sempre molto sconnessa dal contesto economico Juventus, dice quello facciamolo fuori, quello facciamolo fuori, quell'altro facciamolo fuori, e rinnoviamo magari solo Paolo e solo Quadrado e il resto tutti out. Il problema è un altro, è che numericamente la rosa va rimpolpata. Per cui, è vero che bisogna essere bravi a livello economico a non farsi infinucchiare dai procuratori e cercare di mettere le cose al proprio posto, cercando di non strappagare gente che abbia delle capacità medie. Però, tuttavia, se si va a rimodulare l'importanza della rosa con un De Sciuio che fa il panchinare e viene pagato dal panchinaro, io non ci sputo sopra, idem per Bernardeschi. Perché, ripeto, l'impegno della Juventus d'estate, secondo me, è sull'11 titolare, sul rimpolpare la rosa con talento, con gente forte. Si parla di un centrocampista, ci ha fatto un video oggi di Romeo Agresti molto interessante. Potrebbe essere anche il terzino sinistro e il prossimo acquisto della Juve. Per cui, siccome sono due ruoli cruciali, andare a sperperare risorse per sostituire i De Sciuio in scadenza, i Bernardeschi in scadenza, eccetera, e sono cose che vanno valutate, ragazzi. Cioè, non è che io posso perdere tre giocatori, poi devo rimpolpare anche la rosa titolare con altri due elementi di gran livello e poi mi tocca prendere anche quei tre, che magari sono andati via e magari sono dei panchinari, eccetera. A quel punto devo lavorare o low cost, ma comunque sperperò soldi, perché prendo il cartellino, prendo un giocatore che gli va pagato un nuovo ingaggio, invece in questo modo quei rinnovi, vi ricordo che abbassiamo quelli che sono i costi annuali di ammortamento dei singoli calciatori, perché andiamo a spalmarli per più tempo, molto più tempo, e quindi questa potrebbe risultare una mossa vincente che ti porta a non sperperare denaro per dei panchinari durante la sessione estiva. Abbassi i costi, perché l'ammortamento lo spalmi per gli anni di contratto, e tieni questi qua. Poi, se tu abbassi i contratti, questi giocatori magari riesci anche a venderli effettivamente, perché piano piano l'ammortamento lo riduci anno per anno. Hanno uno stipendio magari invitante per altre squadre, e a quel punto la Juve potrebbe anche tentare di cedere questi giocatori, o che ad oggi sono invendibili. Per cui, la strategia secondo me è abbastanza intelligente, nel rinnovare gente come De Sciglia e Berna, per esempio. Prende 3 milioni De Sciglio, gli abbassiamo un po' con lo stipendio, bene, a 2 milioni e mezzo, secondo me, è un giocatore che è ancora appetibile, che potrebbe far gola a determinate squadre. Poi, abbiamo pagato 12 milioni, non so quanti anni c'è la Juve, ma avrà un valore residuo veramente basso, per cui potresti farci anche un minimo di plusvalenza in caso di cessioni futura. Stessa cosa vale per Berna. Uguale e preciso. Quindi, ripeto, riduciamo i costi, non dobbiamo comprare giocatori nuovi e dobbiamo sperperare denaro, magari concentriamo il budget solamente su quegli elementi che veramente possono svoltare la squadra ancora di più. Capita bene che la strategia dei rinnovi è questa qua. Però, ripeto, se ne parlerà dopo il CDA. Ora vediamo un po' che cosa succede con Dybala. Sono veramente curioso, è là sicuramente la situazione. Ma la notizia vera, vi ho tenuto sulle spine, è che la Juve sta ragionando sul rinnovo di Delict. Perché bene sì, ragazzi, questa estate il rinnovo deve arrivare. Altrimenti, già il prossimo anno, l'estate prossima, non questa, insomma, arriviamo a scadenza di Delict. Per cui, questo è l'anno cruciale. O lo vendiamo d'estate, e mi auguro di no, perché io sono un Delict sessuale. Se mi chiedete chi c'è di Trachiesa, Vlaovic, Delict, Dybala, ne dobbiamo tenere solo uno. Io tengo Delict, perché un difensore centrale così forte non si trova un attaccante come Vlaovic. Per carità, il mondo è pieno di attaccanti forti, giovani. Per quanto riguarda il centrocampo, uguale. Cioè, io otterrei tutta la vita a Matthijs Delict. Ma tutta la vita! Per cui, il rinnovo mi farebbe estremamente felice. Poi lui è innamorato dell'Italia. Il rinnovo di Delict è intelligente perché oltretutto, siccome l'abbiamo pagato a una cifra abbastanza importante, vai a spalmare l'ammortamento e riduci i costi annuali. Cioè, il rinnovo di contratto ha le stesse cifre, poi a quanto dicono. L'unica cosa è che i bonus saranno più facilmente raggiungibili. E questa è l'idea della Juventus sul rinnovo. Lui è felice in Italia. Vede che il progetto, in ogni caso, della Juve va avanti e c'è veramente della serietà nell'acquistare giocatori forti per tornare veramente a degli ottimi livelli nel breve periodo. Sicuramente questo messaggio che è stato lanciato dalla società verrà percepito sia da Dybala che da Delict. Delict, per cui, secondo me, rinnoverà, a mio parere. La Juve, se gli propone il contratto, lui rinnova. Sono convinto di questo. Ovviamente dobbiamo centrare anche la qualificazione Champions, che non è scontata. Però, secondo me, rinnoverà. Sarebbe una cosa meravigliosa. Io lo vedo come capitano futuro della Juve. Troppo forte mentalmente. Ha delle qualità non solo in campo, ma anche extracampo, secondo me, importanti. Un gran motivatore, un grande leader. E poi quest'anno sta facendo una stagione straordinaria. Per cui, speriamo bene. Però, ripeto, in tutte queste strategie dei rinnovi già programmati, a mio parere, occhio che entro quest'estate, potrebbe sbucare qualche novità importante legata al rinnovo di Delict. Se ne parla già ora, e io credo che la Juventus la stia valutando. Perché poi, ripeto, arrivare al prossimo anno è pericoloso. Molto pericoloso. Perderemmo Delict, a un costo inferiore. E un po' la situazione, ragazzi, di Vlaovic l'anno prossimo, no? Quindi, direi che è meglio evitare. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, ci vediamo stasera. Post-gara di Inter-Liverpool. Gran partita. Sono curioso di vedere come si comporterà l'Inter di Simon Inzaghi. Partita veramente durissima. Ciao belli e sempre fino alla fine. Forza Juve.